Domenica 1 settembre alle 20.30 a Matera nella splendida cornice di piazza San Francesco d'Assisi la quinta edizione di Bella Come Se, la sfilata di moda organizzata dal Comitato Basilicata di Come in Italia. Ne parliamo in studio con la Presidente e la Vicepresidente Laura Tosso e Maria Merlino. Ben ritrovati e grazie. Grazie a voi. Ben ritrovati a voi. Allora Presidente, che cosa ci aspetta per il primo settembre? Il primo settembre sarà una serata ricca di emozioni, quelle che abbiamo già vissuto in questi anni dal 2019 quando è nato questo evento nel primo anno di vita del Comitato Basilicata come momento per celebrare la bellezza, l'orgoglio e il coraggio delle donne rosa che sono le donne che hanno incontrato la malattia del tumore del seno e che in quella giornata dimostrano quanto sia bello condividere la propria esperienza a viverla con altre donne e rappresentare la bellezza e la femminilità anche quando si incontra una patologia impattante come quella del tumore del seno. Quindi siamo piene di emozioni in questo momento, c'è fermento organizzativo come è evidente che sia per un evento di questo genere, però è il momento in cui poi parte l'organizzazione per un mese molto intenso che si chiuderà poi con la Race for the Cure a fine settembre. Maria, chi sfilerà in passerella? Le nostre donne rosa. Devo dire che quest'anno il numero è aumentato e come ho potuto dire anche in altre occasioni questo potrebbe significare sì che ci sono più casi di donne che hanno purtroppo incontrato la malattia ma sempre più donne si sentono forti e libere nel poterlo raccontare ma per avere anche la possibilità di essere supportate e di poter in qualche maniera e in qualche contesto sorridere e dimenticare la malattia, viverla con un'energia diversa, più intensa, più propositiva. Ad organizzare questo evento non siete soli per fortuna. No, le circa 50 donne che rappresentano tante aree della Basilicata perché non sfileranno a Matera soltanto donne della città che arrivano da tutta la regione, ci sono dei partner storici e quindi sicuramente tutto il gruppo di CNA che ha raccolto le adesioni di stilisti provenienti da tutta Italia e altri partner locali. con il contributo importante dei volontari che saranno di nostro supporto e sostegno per la gestione dell'evento e di tante istituzioni che hanno voluto offrire il patrocinio per questa iniziativa. Oltre a loro ci sono anche aziende che hanno deciso in maniera importante e concreta di esserci accanto come Poste Italiana e Ferrovia Polo Lucane a cui va ovviamente il nostro ringraziamento perché oltre ai contributi individuali di chi poi partecipa alle nostre iniziative il sostegno delle imprese è fondamentale perché ci aiuta non soltanto a sostenere i costi degli eventi stessi ma anche a completare quella raccolta fondi che poi ci consente durante tutto l'anno di portare non soltanto eventi di vetrina come questo ma proprio iniziative concrete di prevenzione e di sostegno efficace alle donne e alle famiglie che affrontano questo percorso di cura. Esserci a questo evento che cosa rappresenta? Rappresenta sicuramente un segno di vicinanza la possibilità di toccare con mano quanto anche una malattia impattante come quella del tumore del seno diventi sempre più guaribile grazie agli investimenti che sono fatti nelle cure, nella ricerca ma soprattutto grazie alla prevenzione quindi per noi è un momento sicuramente gioioso ma estremamente importante per ribadire ancora una volta quanto tutti debbano avere molto centrale il concetto del prendersi cura di sé e di fare prevenzione perché davvero la prevenzione può salvare tante vite un tumore del seno se preso nelle fasi iniziali ha delle possibilità di guarigione sempre più elevate che superano il 90% dei casi quindi è importante insistere in ogni contesto in tutte le fasce di età e il momento di domenica 1 settembre sarà molto corale perché è aperto a tutta la comunità per ribadire ancora una volta questo concetto fondamentale della prevenzione non bisogna avere paura perché davvero può salvare tante vite c'è sempre tanta emozione da parte delle donne protagoniste di questo evento Maria sì infatti siamo inondate per tutto il periodo di preparazione dalla loro emozione ma è anche un modo di raccontarsi durante i nostri viaggi itineranti nella regione Basilicata incontriamo tante vite, tante esperienze che loro ci consegnano in qualche maniera quindi per noi è anche una responsabilità poterle accogliere e poterle donare a chi sarà presente la serata del primo settembre verrà tutto raccontato in una maniera elegante e anche artistica però ogni secondo, ogni attimo dell'evento sarà a pregno proprio delle loro vite delle loro esperienze e quindi sì, ne arrivano proprio tante una serata da non perdere quella di domenica 1 settembre in piazza San Francesco d'Assisi a Matera per la quinta edizione di Bella come se che come dicevamo presidente anticipa di poche settimane l'evento Clou di Comen sì, in realtà tutto settembre e poi anche ottobre che è il mese della prevenzione dei tumori del seno sarà molto ricco stiamo organizzando anche un cartellone di eventi itineranti come diceva appunto Maria in tutta la regione per raccogliere le adesioni e le energie per partecipare alla sesta edizione della Race for the Cure di Basilicata che si terrà a Matera dal 27 al 29 di settembre con tante novità importanti che racconteremo man mano sveleremo ogni tanto qualche carta in più quello che possiamo dire già da oggi sicuramente è che cambieremo location ci sposteremo in uno spazio più ampio che è il campo scuola di Matera e avremo la possibilità di ampliare con dei partner di livello come Sport e Salute la Federazione Italiana Pallavolo tutta l'area dedicata allo sport per le famiglie e soprattutto l'area medica perché potenzieremo anche le attività di prevenzione che saranno svolte all'interno del villaggio tutte queste attività sono svolte ovviamente in maniera gratuita per la comunità e poi ci riuniremo il 29 di settembre per la nostra passeggiata e corsa auspichiamo che quest'anno avete un obiettivo di adesioni molto ambizioso abbiamo un obiettivo ambizioso che supera quello già molto ambizioso dell'anno scorso quindi ci auguriamo che la portata di questo evento e le iniziative anche di avvicinamento e di accompagnamento ci consentano di raggiungere questo obiettivo di 7000 iscritti perché come diciamo sempre non conta tanto il numero ma quel numero rappresenta il valore delle attività che poi potremo potenziare nel corso dell'anno Quanto avete fatto rispetto all'anno che sta per concludersi l'anno race intendo dopo la race dello scorso anno? Abbiamo realizzato con le prossime ormai del primo weekend di settembre in totale 8 giornate di prevenzione diffuse su tutto il territorio della regione abbiamo potuto riconoscere sostegni finanziari a delle associazioni che hanno presentato dei progetti inerenti e riguardanti sempre l'argomento del tumore del seno e dei tumori al femminile e di altre associazioni locali che sono al nostro fianco e quindi saranno presenti anche la serata del primo settembre come saranno presenti per tutto il periodo di preparazione e di approdo alla race Noi chiediamo, è vero, prima Laura parlava dell'importanza del sostegno delle imprese ed è fondamentale perché sosteniamo dei costi non indifferenti per poter realizzare tutta una serie di eventi ma noi confidiamo molto nel supporto del singolo il singolo poi ci porta a quei numeri come quelli dell'anno scorso e come quelli di quest'anno un numero così corposo ci dà innanzitutto la certezza e la volontà da parte di tutti di poter realizzare dei progetti finalizzati alla prevenzione e alla cura e a non far sentire le donne più sole e questo l'abbiamo già visto e inoltre la presenza ci permette di ricaricarci di riempirci di energia e di continuare nella nostra attività in Basilicata quindi chiediamo ad ognuno di supportarci ad ogni piccolo sostenitore di diventare attore dell'evento di Comen tutti noi possiamo sostenere la causa Comen da quando è nata Comen Presidente in Basilicata quanto è cresciuta la consapevolezza rispetto ai temi della prevenzione e della ricerca? Per quello che misuriamo giornalmente è cresciuta tantissimo intanto proprio dall'interesse dell'avvicinamento di tante singole persone, famiglie ma anche le scuole che ci hanno accolto nei loro momenti di incontro con gli studenti perché hanno compreso come si possa parlare anche ai giovani di questi temi e quindi abbiamo avuto anche queste occasioni molto belle nel corso di questi anni la testimonianza più evidente è quella che sempre più ci cercano mentre all'inizio come era giusto che fosse perché non conoscevano l'associazione la realtà che da 25 anni è protagonista in Italia con il problema d'evento per la lotta ai tumori del seno e quindi siamo state in prima battuta noi a stimolare un avvicinamento adesso invece vediamo che si riesce ad attrare anche più spontaneamente una vicinanza a questi temi e anche una minore paura di parlare della propria situazione personale probabilmente manca proprio questo perché ci vogliono anche dei momenti meno medici perché i medici sono fondamentali nel sostenere il percorso della cura ma ci sono anche dei momenti in cui si vuole semplicemente condividere dell'esperienza avere chi è vicino al proprio momento di difficoltà e stiamo vedendo sempre di più anche grazie a una presenza della nostra associazione all'interno dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera che c'è molta più spontaneità quindi questo è l'elemento che sicuramente riusciamo a misurare quotidianamente e che ci dà il segnale anche di quanto effettivamente possa servire un'azione di questo tipo una bellissima realtà da sostenere domenica 1 settembre quinta edizione di Bella come se in piazza San Francesco d'Assisi a Matera aspettando la Race for the Cure buoni preparativi grazie alla Presidente Laura Tosso e alla Vice Presidente Maria Merlino grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti